Eccoci qua ragazzi, bentornati in questo nuovo video e forza Juventus! Allora, devo dirvi la verità, quello di oggi è stata una conferenza stampa di Massimiliano Allegri molto ridotta dalla durata totale di 12 minuti, quindi non so esattamente quanto verrà lungo questo video credo che sarà un video molto corto e ci saranno poche informazioni e tra l'altro ho visto che vi è piaciuto molto il modo di interpretare le conferenze stampa la conferenza stampa dell'ultima volta, quindi senza dover riportare ogni parola ma soltanto andando a toccare un po' i punti più importanti del discorso quindi anche oggi sarà così, quindi sarà proprio un video brevissimo fuori dallo standard in realtà solito delle conferenze stampa pre-partita io ci tengo a ribadire ancora una cosa, la sottolineerò anche nel video di domani in preparazione alla gara, vietato sbagliare non esiste una motivazione nel mondo per arrivare domani sera a non essere qualificati in Champions l'unica roba è che si reincarni in Byron Moreno l'arbitro di domani e che fischi tutto contro la Juventus apposta per fare un dispetto perché bisogna chiudere veramente bisogna veramente chiudere il discorso qualificazione Champions perché se no il calendario diventa antipatico andare a Bologna dopo aver giocato anche la finale di Champions con le gambe che tremano non sarebbe qualcosa di meraviglioso così come non sarebbe bello mettere tutto in mano a palladino dato che ho i fantasmi del Vietnam ricordando Juventus-Monza in generale non vorrei mai rivivere una serata come quella del proprio chi era? il gol di Alfonso Gaik il benevento, madonna il benevento di Bippo Inzaghi cioè non vorrei rischiare di cadere all'interno di quelle giornate lì quindi domani sera è necessario chiudere la pratica legata alla corsa Champions stop e Allegri dice è importante domani chiudere il primo obiettivo e preparare bene la partita con la Salernitana no, l'importante non è il termine giusto è fondamentale io dico fondamentale Allegri non può dirlo, lo dico io domani è fondamentale chiudere la pratica legata alla Champions League e giustamente Allegri dice non possiamo avere la presunzione di snobar la Salernitana ecco non esiste non esiste il fatto di dire vabbè dai tanto poi c'è la finale di Champions magari di Champions di Coppa Italia non esiste non esiste sta cosa qui bisogna fare questi tre punti perché sono necessari e fondamentali per programmare il futuro e ufficializzare il futuro servono assolutamente sì non sarà facile hanno giocatori veloci davanti con l'Atalanta e con la Lassa hanno fatto belle partite è una squadra viva nell'annata sfortunata cercheranno un colpo di coda per ricordare l'annata brutta con un bel risultato a Torino noi dobbiamo fare una partita concreta ora va bene davvero tutto però trovare dei lati positivi in questa Salernitana qui io capisco guarda sì l'orgoglio tutti i discorsi che è legati allo sport come a me ci stanno tutti però è una squadra viva con dei giocatori veloci davanti e non sarà facile ecco io vorrei prendere le distanze da sta roba qui perché già ci siamo noi che arriviamo da 14 punti in 14 partite e noi siamo il vero grosso problema dall'altra parte c'è una squadra che è lì che dice sì però va bene l'orgoglio quello che vuoi ma hai capito che cosa siamo hai visto che tipo di stagione abbiamo fatto hai visto quanto non ci arriviamo a quei livelli lì quanto difficoltà abbiamo a fare anche solo un punto in un controsquadre come la Juventus secondo stagione come quello della Juventus cioè poi queste cose vanno messe sul piatto Allegri da sempre trova i pregini negli avversari cerca di tenere tutto lì basso certo va bene però non posso sentire io non posso accettare di doverci dire che non sarà facile con la Salernitana in casa dove se vinci ti metti veramente in saccoccia la qualificazione Champions che dopo un giorno del genere non era scontato e devi pregare perché gli altri dietro hanno iniziato a rallentare perché tu non hai mai accelerato quindi l'accelerata la devi dare con la Salernitana già che con l'Atalanta in Coppa Italia io ho delle pessime vibrazioni veramente pessime in campionato con la Salernitana non puoi veramente permetterti di di dire eh non sarà facile i loro giocatori sono veloci sono vivi non sono vivi non sono vivi poi è ovvio che non vanno a Torino a fare la gita e metteranno tutto loro stessi per cercare di portarsi a casa quel ricordo e va benissimo però se siamo qui a dirci non sappiamo neanche batter la Salernitana per conquistarci la Champions allora in Champions forse è giusto che non ci si vada quindi meritiamoci questa qualificazione con 5 squadre se non 6 in Champions League con la Salernitana retrocessa in casa vi chiedo veramente questa cortesia non fatemi impazzire turnover andrà in campo la formazione migliore e solo dopo penseremo all'Atalanta è logico pensare in realtà secondo me che qualche incastro di turnover sarà fatto per forza di cose anche perché avremo delle assenze poi in finale di Coppa Italia che non è la finale di Champions come ho detto prima quindi non lo so dato che Locatelli non sarà disponibile io la prova Nicolossi Caviglia la farei sono sincero credo che abbia molto senso per far iniziare a girare un po' le gambe a questo ragazzo che sta campando di soltanto allenamenti ormai da mesi e ci sono delle defezioni anche domani sera perché dice out de sciglio Alexandro e Danilo con due di questi che potrebbero essere recuperati per l'Atalanta e immagino che si stia parlando dei brasiliani come potenziale recupero con l'Atalanta anche se leggevo che servirebbe un miracolo per rimettere in piedi Danilo e se Danilo non è al 100% e Alexandro non è al 100% vi chiedo la cortesia in finale di Coppa Italia di non buttarli dentro tanto per se non stanno bene non stanno bene ne giocherà un altro al loro posto Chiesa e Ildis sono acciaccati da un mezzo virus Ildis si sta riprendendo ha perso anche tanti chili invece Chiesa lo valuterò domani mattina perché stamattina era mezza e mezzo ecco perfetto meraviglioso proprio il momento giusto questo nei prossimi due gare ci giochiamo veramente quelli che sono gli obiettivi minimi della stagione massimi della stagione vedetele come volete perché tanto qua ormai vale tutto di tutto e mancano sia Chiesa che Ildis o non stanno bene sia Chiesa che Ildis vi prego no cioè vi scongiuro il virus a maggio no non ce la posso fare non ce la posso fare sembra veramente un film dell'orrore scritto con a tema la Juventus a fine stagione valuteremo delle cose andate bene o meno con lo staff io per valutare le cose andate bene o meno bene non avrei aspettato la fine della stagione visto l'andazzo mi sarei preoccupato anche un pochettino prima di discutere per cercare potenziali soluzioni Allegri dice no vabbè ma questo lo facciamo a fine anno tutti gli anni ho capito amore mio però cioè forse non è chiaro che la Juventus ha fatto 14 punti 14 partite forse me lo ricorderò solo io non lo so io spero che sia una frase tanto per dire che non corrisponde a verità perché se davvero Allegri e il suo staff non si sono interrogati su come migliorare un rendimento che ha del vergognoso è preoccupante come situazione di dire vabbè poi ci pensiamo a fine anno ma questa cosa non può esistere non può corrispondere a vero mi auguro veramente che sia una frase da conferenza stampa che si fermi lì in settimane una parte dei tifosi ha dimostrato di essere dalla sua parte ha avuto questo feedback anche dalla società e Allegri risponde dicendo la Juve deve tornare a giocare la Champions se all'inizio dell'anno non era scontato addirittura abbiamo fatto un'impresa siamo stati meravigliosi anzi non siamo ancora stati si batti alla Salernitana abbiamo fatto un'impresa siamo stati meravigliosi si batti alla Salernitana dai ragazzi adesso cioè non è niente scontato nel calcio nulla era scontato che Bologna potesse qualificarsi in Champions o lottare fino all'ultimo era scontato che lo potesse fare l'Atalanta inizio anno era più scontato che lo facesse la Juve se mi permettete se mi permettete a inizio anno non è che adesso portiamo l'impresa qualificazione Champions League e andiamo a festeggiare in piazza ci andiamo tutti in piazza e se vinciamo con la Salernitana festeggiamo che siamo qualificati alla Champions perché non era scontato ma dai e poi Allegri dice abbiamo abbiate ancora un attimo di pazienza ne avete avuta tanta manca ancora un po' di pazienza ecco spifferi di corridoio parlano di un annuncio davvero intorno al 15 di maggio mi sembra assurdo un annuncio prima della finale di Coppa Italia sono sincero mi sembra assurdo magari subito dopo magari nella giornata dopo tra il 15 e il 16 vediamo come la gestirà la Juventus questa roba qui il fatto che Allegri dica abbiate ancora un attimo di pazienza però fa ragionare perché quindi vuol dire che la società ha parlato con Allegri e gli ha detto ok ci qualifichiamo in Champions raggiungiamo la finale di Coppa Italia la giochiamo e poi dopo annunciamo quindi Allegri lo sa già come fa Allegri a dire abbiate ancora un attimo di pazienza cioè non ha detto no non ci ho parlato me lo devono dire come ha già detto tante volte ha detto abbiate ancora un attimo di pazienza cioè questo sembra quasi sottolineare un sì sì io ci ho parlato so quando ci sarà questo comunicato di prolungamento permanenza esonero abbiate ancora un attimo di pazienza perché Allegri poi parla proprio della partita di Coppa Italia dice sì abbia la salernitana e poi abbia la partita di Coppa Italia e questa cosa è molto particolare non so se ha fatto accendere un campanello soltanto a me ma è una cosa molto molto particolare perché non vinciamo più per tanti motivi è difficile trovarne uno potevamo fare meglio quello sì ma poi come vi ho già detto ne parleremo a fine anno con lo staff meraviglioso perché non vinciamo più per tanti motivi quali eh ma queste ne parleremo poi a fine anno Juventus Football Club S.P.A. la partita più importante è la salernitana poi a catena lo saranno le altre e la Coppa Italia Giallo domani potrebbe anche giocare con Danilo e Alexandro fuori dato che ho quattro difensori e domani giocheranno tre vediamo potrebbe scendere in campo per la prima volta Tiago Giallo non abbiamo ancora mai visto quindi sarebbe anche interessante cercare di capire che tipo di giocatore è c'erano anche altre parole da analizzare si è parlato di Sacchi si è parlato del corso di allenatore della Continassa non mi sembravano informazioni di rilievo per niente quindi ho scelto di escluderle quindi come vi ho promesso questo video è più breve del solito ho cercato veramente soltanto le informazioni un po' più dettagliate però c'è un piccolo una piccola discussione la prima piccola parentesi dovete farlo qui sotto nei commenti e lasciare un mi piace al video un'iscrizione al canale perché tra tre giorni festeggeremo i dieci anni del canale YouTube 14 di maggio il giorno prima della finale di Coppa Italia quindi cerchiamo di raggiungere delle vette sempre più alte per festeggiare insieme questi dieci anni questa esperienza lunga ormai una decada ciao a tutti ragazzi e forza Juve vi prego vi scongiuro domani sera non fatemi arrabbiare in casa con la Salernitana non fatemi arrabbiare non fatemi arrabbiare non fatemi arrabbiare non fatemi arrabbiare Grazie.